Sono Pietro Mazzei, sono nato a Rivoli. Rivoli è la mia città, ci sono nato, ci sono cresciuto, ci ho giocato sin da piccolo e continuo a pensare che sia il posto più bello dove vivere. La macchina a me è sempre piaciuta, ha comunque piacere stare seduti dentro in macchina con la musica, sentire il rumore del motore. La 500 Abarth è una soddisfazione, è bella, piacevole, divertente e sprintosa. Grazie al programma autonomi di Fiat c'era la possibilità di montare i comandi sulla macchina e quindi darmi la possibilità di guidarla. Io ho lasciato il mio lavoro perché mi è stata offerta questa occasione di poter lavorare facendo quello che mi piace. Passare da un lavoro d'ufficio a un lavoro così in movimento dove la maggior parte dell'anno stai all'aperto è sicuramente una cosa super positiva perché ti fa cambiare completamente la prospettiva della giornata, la prospettiva di vita e soprattutto a me personalmente ha fatto guadagnare almeno 10 anni di vita. Ale, 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 non ti fermare, bravo Flavio! Giocare a tennis in carrozzina ti porta sicuramente a conoscere una maria di gente. Il gruppo con cui gioco io è un gruppo molto affiatato, siamo in tanti e siamo tutti amici fortunatamente. Ho avuto anche la fortuna, mia fortuna ovviamente, di poter lavorare anche con dei ragazzini con delle disabilità, ma fortuna perché? Perché li ho visti sorridere. Quindi vederli colpire una pallina con la racchetta, mandarla di là della rete per loro è stato veramente fonte di allegria, di sorriso e a me mi ha riempito veramente il cuore e mi ha dato e mi dà ancora stimolo per continuare a fare e riprovarci sempre. Grazie a tutti! Grazie a tutti!